Siamo in un contesto straordinario e anche in un momento favorevole, quindi Prosecco East cosa vuole fare? Vuole evidenziare che siamo all'interno di una destinazione turistica, le colline del Prosecco, nel quale c'è la possibilità di fare una serie di esperienze che sono le nostre esperienze, quello che noi facciamo nella nostra quotidianità e che quello che abbiamo scoperto piace ai turisti, per cui perdersi tra i vigneti, i borghi, le nostre locande, le nostre trattorie, è il modo per far scoprire il territorio, presentare la nostra ospitalità e creare questa destinazione che ormai a livello internazionale sta crescendo sempre di più.